Il primo livello di questo Day 1A Il poker club l'automatica E ora siamo di nuovo qua Per una 5 giorni di grande poker Che si concluderà lunedì Con il tavolo finale televisivo Tra i presenti ovviamente Il tavolo 21, eccolo lì Sergio Castelluccio Vincitore dell'ultima tappa dell'IPT Ovviamente sono tantissimi i volti notti Del panorama italiano Anche se abbiamo già perso Un big track di lusso Che alla primissima mano E' uscito con un brutto colpo Un fool flopato Contro un fool chiuso dall'avversario Davvero sfortunato In bocca al lupo a tutti i partecipanti E voi ovviamente restate con noi Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori